Vetture dal fascino senza tempo tra i suggestivi paesaggi della nostra Italia per celebrare il leggendario Tazio Nuvolari. Passaggio anche ad Arezzo del Gran Premio Nuvolari, la manifestazione internazionale di regolarità per auto storiche più tecnica d'Italia. 300 i Gentleman Drivers impegnati nel percorso, pronti a consolidare i risultati ottenuti. Questa edizione vede confermata la presenza di alcuni importanti partner grazie ai quali il Nuvolari ribadisce alcune delle proprie caratteristiche fondamentali. Lo spirito della competizione sportiva, la celebrazione storica e il turismo itinerante. In Piazza Grande anche i controlli a timbro nel centro storico, poi tutti verso le prove di Pieve Santo Stefano e il passo di Via Maggio. L'arrivo della seconda tappa sarà a Rimini in Piazza Tre Martiri. La giornata si chiuderà con il tradizionale gala dinner in onore di Tazio Nuvolari e nella meravigliosa cornice felliniana del Grand Hotel di Rimini.